Gal Monferrato Estigiano presenta Ritorno alla Fiera, 12 fiere storiche simbolo del territorio monferrino. Il comune di San Damiano d'Asti vi invita alla Fiera Storica del Cappone. Sabato 7 dicembre, ore 15, inaugurazione fiera. Visite agli allevamenti, mercato del territorio, concerto del mezzo soprano Maria Rabbione. Domenica 8 dalle ore 10, mostra mercato, visite guidate agli allevamenti, intrattenimenti da piazza. Ore 11, convegno Il Cappone, gusto, arte e musica, con Paolo Massobrio. Fino alle 16, animazioni musicali. Lunedì 9 dalle ore 10, prosegue la fiera con la vendita dei capi e la distribuzione gratuita della scodella di brodo di Cappone. Fiera Storica del Cappone di San Damiano d'Asti, dal 7 al 9 dicembre. Gal Monferrato Estigiano presenta Ritorno alla Fiera, 12 fiere storiche simbolo del territorio monferrino. Mercoledì 11 dicembre, la città di Moncalvo vi invita alla 376esima fiera regionale di Sua Maestà il Bue Grasso. Dalle ore 8, distribuzione scodella di brodo, trippa e ceci, esposizione dei capi bovini, fiera agricola, mercatino enogastronomico, canti e scene popolari, premiazioni e sfilata dei capi. Dalle ore 11, presso Pro Loco, distribuzione continua del sontuoso bollito misto. Nel pomeriggio, visite guidate e mostre d'arte. Rassegna gastronomica Moncalvo in tavola, presso i ristoranti locali. 376esima fiera del Bue Grasso, mercoledì 11 dicembre a Moncalvo. Amici cari ben ritrovati con Agrisapori, il piacere del buon gusto. Questo secondo appuntamento, seconda puntata, che vogliamo dedicare all'edizione di quest'anno del Merano Wine Festival. Un festival particolare perché come abbiamo compreso dalla scorsa puntata, se vi ricordate, i produttori non possono partecipare se non dopo un'attenta selezione dei loro vini. Però ci siamo resi conto che abbiamo trovato i vini delle varie regioni, i vini stranieri, le eccellenze della gastronomia. Insomma, un puzzle di ingredienti veramente molto interessanti per un festival che sta riscuotendo negli anni grande successo. E allora diamo via questa puntata, godiamoci ancora coloro che hanno partecipato a Merano a questo momento ludico interessantissimo. E vi invito chiaramente a rimanere con Agrisapori, ma senza prima ricordare che anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it. Raggiungo il curanzo perché vai in onda, il secondo appuntamento da Merano. Il naso è un vino che per la sua natura si manifesta già da persone, è un vino comunicativo. Sono con la signora Olga Bussinelli con Cristian Marchesini, rispettivamente direttrice e presidente del consorzio della Valpolicella. Allora, siamo qui a Merano, partirei per Cavalleria Cristian con la signora. Merano è una vetrina importante, voi avete una postazione tutta vostra dove regolarmente proponete le degustazioni dei vini del territorio. Dei vini e dei prodotti del territorio. Sì, abbiamo fatto questa scelta di avere una visibilità importante perché la nostra politica di promozione consortile è quella di esportare una qualità di vino e di territorio e un forte legame fra vino e territorio in ambienti e in contesti che siano adeguati. Naturalmente Merano che è una vetrina importante perché noi sappiamo tutti che opera una selezione dei prodotti ma anche una selezione del pubblico necessariamente. Crediamo che sia il punto giusto, la vetrina ideale per poter non solo presentare ma avere anche una buona risposta rispetto a questo messaggio che stiamo... Vorrei sottolineare questa selezione del pubblico perché per voi operatori che avete poi chiaramente un obiettivo da raggiungere che è la promozione ma è anche poi la vendita dei vini sui mercati mondiali. Chiaramente il pubblico interessato è il pubblico che conta. Naturalmente il pubblico che conta è in grado anche di comprendere poi quella che è la complessità di un territorio come quello della Valpolicella perché non stiamo parlando di un'area piccola, stiamo parlando di un'area che va dal lago di Garda fin quasi a Montechia di Crosara, coprendo varie latitudini dalle pendici delle montagne fino giù alla pianura e quindi tutto questo determina poi anche una diversità nei prodotti, una complessità e questo pubblico devo dire che in queste giornate ci ha dato grandi soddisfazioni anche nelle domande che ci hanno fatto, nella curiosità che ha dimostrato, nel desiderio che ha manifestato di venire anche a visitare il nostro territorio per cui direi che è stata un'esperienza decisamente positiva. Un pubblico che continua dunque a maturare e a crescere. Presidente abbiamo citato i prodotti ma che prodotti sono quelli della Valpolicella? Di che vini stiamo parlando? Siamo una denominazione estremamente eterogenea, quindi noi esprimiamo quattro vini sono il Valpolicella con la sua declinazione anche superiore il Ripasso che negli ultimi periodi ha ottenuto un successo mondiale l'Amarone che è il nostro grande vino, la nostra grande potenzialità e il Recciotto che è l'espressione dolce dell'Amarone Siamo una denominazione estremamente dinamica, esportiamo oltre l'80% dei nostri prodotti in tutto il mondo soprattutto nei paesi nordici, cioè Canada, Stati Uniti e Nord Europa ma adesso siamo in grado anche di essere presenti in sud-est asiatico, Cina e persino in Sud Corea quindi un grande successo dell'intera denominazione numeri importanti, numeri di 60 milioni di bottiglie prodotte negli ultimi due o tre anni Non resta che farvi chiaramente i complimenti ma completiamo dicendo anche che cosa fa come lavora, come si muove, come opera il consorzio Il consorzio rappresenta 2.245 soci, 7.345 ettari e siamo estremamente attivi sia nell'attività di promozione quindi Merano Wine Festival, Pro Wine Dusseldorf, Vin Italy Verona e soprattutto un'attività di cercare di sensibilizzare tutti i produttori in una viticultura ecosostenibile e qui a Merano abbiamo ricevuto il premio come consorzio che si impegna sulla ecosostenibilità del vigneto Spazio anche alle guide, quelle prestigiose Mario Busso è con me, vini buoni d'Italia Insomma siamo a Merano, qui c'è un elenco di prelibatezze, di eccellenza, di vini di pregio di tutto di più, Mario però lascio a te la parola perché presentiamo la guida di quest'anno La guida di quest'anno nasce con gli auspici ovviamente di touring e della collaborazione che abbiamo fatto con Merano Wine Festival è ormai tradizione anche presentare le eccellenze qui a Merano che sono qui nello stand di Anoteca Italia è una guida molto particolare perché è praticamente dedicata soltanto ai vini da vitigno autotoni nata 11 anni fa, proprio in un momento in cui il vigneto Italia si stava internazionalizzando anche con la collaborazione di Attilio Scienza e di altri illustri professori universitari abbiamo dato là e abbiamo sostanzialmente portato questa guida oggi ad analizzare qualcosa come 25.000 vini quando è nata gustavamo 6.000 questo racconta un po', i numeri raccontano questa evoluzione di come i vignaioli italiani si siano cimentati sui vitigni nazionali, quindi quelli tipici quelli che raccontano l'identità del territorio 25.000 vini sono tanti, le commissioni che le degustano sono 25 e la guida appunto punta sostanzialmente a valorizzare quello che è il patrimonio vitivinicole italiano basato su qualcosa come 1200 vitigni autotoni tipici contro la seconda nazione europea che è la Francia che ne ha 600 quindi giusto per avere, non perché voglia fare stai parlando del nostro patrimonio il nostro patrimonio ampelografico italiano quest'anno abbiamo messo in guida 1200 aziende quindi selezione rigorosissima 4500 i vini recensiti e qui a Merano ne abbiamo 300 in degustazione in rappresentanza di tutte le regioni italiane Mario questa è una vetrina che mi pare stia crescendo ma soprattutto è apprezzata dai produttori una vetrina importante ma è una vetrina importante per i produttori chiaramente perché esprime un po' quello che è stato l'impegno loro soprattutto in questo decennio che racconta un po' l'evoluzione della guida ma è molto importante soprattutto per gli operatori stranieri nel senso che oggi gli operatori stranieri stanno puntando sulla tipicità dei vitigni autotoni che raccontano quello che di meglio l'Italia sta a livello territoriale a livello regionale dando infatto di vino noi premiamo l'eccellenza con la corona facendo peraltro delle finali pubbliche delle finali in cui non solo le commissioni dei miei collaboratori lavorano ma proprio per segno di trasparenza ma anche per capire dove va il gusto dei consumatori abbiamo creato durante le finali delle commissioni di wine lover di sommelier di ristoratori che quest'anno sono espressi in guida anche con il loro voto a fianco al nostro per vedere come il pubblico del consumatore collima con l'opinione del tra virgolette tecnico della guida il merano wine festival significa anche birra ottima birra sono ben dodici birrifici italiani presenti io sono con antonio cesaro che è un mastro birraio e ambasciatore della birra forst birra che propone una grande novità proprio in occasione del festival però antonio è lei che deve spiegare che cosa avete pensato e come l'avete realizzata beh in effetti sta diventando una tradizione l'anno scorso al mio presidente o la mia presidente proprio per un moto di ringraziamento per il dottor Kecher e per tutto quello che in vent'anni è riuscito a costruire avevamo fatto una... volevamo fargli un omaggio quest'anno cosa abbiamo pensato? abbiamo pensato che birra e vino non sono in antitesi fra di loro ma sono paralleli quindi al nostro, al mio mastro birraio ormai devo dire così Christian Pierre che si chiama gli è venuto in mente di dire va bene facciamo una birra fermentata in una botte di lagrain perciò di un grande vino del territorio come un grande... è chiaro perché restiamo a giocare in casa la forza è in alto a tesina quindi dovevamo prendere un vino alto a tesino è stata fatta una ricetta particolare con dei malti speciali veramente ricercati poi il mosto di birra è stato messo in questa botte che aveva contenuto lagrain quindi vino lagrain è iniziata la fermentazione con lievito del vino non lievito di birra poi chiaramente rimanendo nella botte non avevamo la possibilità di regolare l'anidride carbonica o è troppo è troppo poca per cui è stata aggiunta una piccola quantità di una birra a doppio malto che noi facciamo sempre del mosto però mai di birra finita in modo da riattivare la fermentazione riattivata la fermentazione abbiamo scelto un tipo di bottiglie particolari e tutto questo discorso non è stato da oggi a domani ma è durato più di 4 mesi perciò vedete come a volte a raccontarlo occorrono pochi secondi ma in realtà c'è un lungo lavoro alle spalle però Antonio ora sono curioso che birra abbiamo ottenuto? beh abbiamo ottenuto la birra dal colore scuro moderatamente amara ha un grado alcolico abbastanza sostenuto sui 7 gradi alcolici e ha un abboccato che richiama molto il tostato che richiama molto il caramello ma anche delle note abbastanza dolci di nocciola e così quello viene dai vari tipi di malto che abbiamo utilizzato suppongo che parliamo di una produzione limitata no, lei suppone bene sono 75 bottiglie che questa sera spariranno allora noi saremo dei fortunati? penso di sì almeno dei curiosi fortunati essere arrivati al momento giusto nel posto giusto perché da domani questa birra sparirà così come la ricetta Obama è sparita questa etichetta non esiste è stata fatta apposta ed è stata fatta dalla signora Celina von Manstein che è la figlia dell'amministratore delegato quindi del proprietario della birra Forst è proprio un'etichetta particolare per una birra particolare vede qui vorrei sottolineare tutta questa attività che abbiamo fatto non ha nulla di commerciale non ci interessa questa birra come commerciale così ci interessa soltanto dimostrare al Wine Festival quanto apprezzamento anche la gente del territorio dovrebbe avere per queste persone che veramente tutto l'anno lavorano per questi tre giorni bene noi abbiamo così anche avuto il piacere di avere un momento particolare nel nostro programma dedicato a questo connubio bello fraterno tra il mondo del vino e il mondo della birra grazie ancora Antonio vi invito a rimanere naturalmente con Agri Sapori ci sono degli awards veri e propri che vengono contraddistinti con dei bollini rossi oppure dorati e questo significa veramente vini al loro punto d'arrivo punto di altissima qualità di altissimo pregio a parte quelli che vengono proposti dalle aziende presenti al festival ce ne sono ulteriormente 130 vini che sono esposti qui in questa rotonda in questo anfiteatro del Tour House vini di altissima qualità dunque di grandissimo pregio abbandoniamo però momentaneamente l'area o meglio le aree dedicate ai vini e spostiamoci perché c'è anche la gastronomia d'eccellenza una vera e propria gourmet arena da una regione all'altra da un prodotto all'altro questa volta il Veneto o per meglio Vicenza e con Dario Loison parliamo di cosa? di panettone panettone siamo a Natale o meglio quasi siamo a Natale il panettone è il principe chiaramente della tavola siamo fortunatamente su un aspetto qualitativo molto alto dove possiamo permetterci di ricordare la nostra tradizione ecco che panettone è questo quali sono le sue peculiarità oppure le sue differenzazioni? ma da sempre mio padre faceva un lievito a lievitazione naturale che gli insegnò il suo quindi da tre generazioni lavoriamo un lievito madre solo esclusivamente da pasta acida che significa una lavorazione lenta e lunga che si potrà per almeno tre giorni noi dichiariamo 72 ore di lavorazione per fare un solo panettone questa è la differenza primaria che permette una grande digeribilità poi ricchezza di frutta aromi e sapori quindi unicità di frutta caratterizzazione particolare utilizzando frutte che normalmente non sono a disposizione della grande industria il mandarino tradivo di Ciaculli che è un presidio il chinotto di Savona oppure chiaramente solo arancio di Sicilia dichiarato o cedro di diamante della Calabria ecco questo fa un po' la differenza oggi in un panettone di qualità battuta finale quanto pesa questo? questo è un panettone da tre chili ha fatto due ore di cottura ha avuto la lievitazione finale è stata di 17 ore è un prodotto quindi che dà qualche complessità di produzione le grandi specialità all'arena gourmet Anna-Lisa Sassi dico bene? Parma il prosciutto sì il prosciutto di Parma non poteva non partecipare a questa manifestazione noi abbiamo colto questa occasione perché effettivamente il prosciutto crudo insieme ai grandi vini si sposa benissimo quindi non potevamo mancare ma del Parma ne parliamo in tante occasioni ormai lo conosciamo sappiamo che è un prodotto amato in tutto il mondo però in sostanza che cosa ha di diverso il Parma da un altro prosciutto non so che è banale come domanda però c'è veramente un qualcosa che è differente? sicuramente la carne la materia prima il suino italiano di 165 chili 9 mesi fanno la differenza quindi partendo da una materia prima selezionata e che si differenzia dal panorama della carne suinicola europea a tutti i livelli arriviamo ad un prodotto che è affinato nel modo più come dire delicato possibile quindi le stagionature lunghe non invasive quindi manteniamo il più possibile la fragranza con il più gusto della stagionatura e qui si lavora la gourmet arena questa volta sono con Romina Marovelli che arriva dalla Garfagnana perciò i prodotti di quel territorio tipico della Toscana Romina Cara in pochi istanti può raccontare chi è a casa adesso che cosa c'è qui sopra? allora abbiamo tre tipi di conciati conciato ne mosso i vinacci di vino sangiovese paglia e menta foglie di castagno e felci però parliamo di formaggi a latte? questo tutto latte non crudo pastorizzato queste la stagionature partono tutto da sei mesi dopo sei mesi arriva la conciatura e dopo la conciatura arriva il riposo su tavole di legno dopo sono pronti per l'imballaggio e la spedizione di quale latte però stiamo parlando? latte di pecora perfetto invece qui abbiamo qualcosa di più fresco sì qui è un formaggio è un baciolo un baciolo questo è un baciolo è il formaggio di mucca in crossa e fiorita in crossa e fiorita è baciolo perché baciolo è un bacio diventato formaggio perché è un termine dialettale che mio nonno dedicava a mia nonna praticamente per dargli un bacio per dargli noia praticamente hai visto quante cose belle si scoprano che sapori hanno i formaggi della Garofagnana? allora questi sono formaggi abbastanza sostenuti perché i lati di pecora partono da sei mesi di stagionatura dopodiché hanno l'aroma del il sapore l'aroma della della vinaccia l'alchimia di questo formaggio è che la vinaccia il mosto non intacca dentro alla pasta rimane fuori e questa è la parte più interessante invece là che si parlava di menta è ancora più interessante più alchimista perché questa è paglia in menta la paglia si sente nella degustazione subito dopodiché alla fine della degustazione viene fuori la menta come per pulirsi il palato dal formaggio è essere è un grande ingrediente si poi velocemente questo è foglia di castagno foglia di castagno perché è stata scelta la foglia di castagno perché è abbinare il formaggio la produzione nostra al territorio infatti da quelle parti insomma la castagna quanto è stata importante per secoli era il pane e qui il bacio del nonno il bacio del nonno è il latte di mucca è molto cremoso molto dolce molto burroso molto cremoso e poi si sfa in bocca come un bacio che si fa e questa volta c'è la puglia protagonista e mi dicono la provincia di foggia Renato con la sua figliola che si chiama Sara Sara allora che avete portato qui è un po' di tutto questa provincia che ha dei sapori meravigliosi c'è questa oliva che se non sbaglio questa è la bella della daunia sì sì è vero però noi produciamo diciamo la peranzana a Sansevito dai raccontami dai parla la peranzana è circoscritta cioè vive soltanto diciamo a Sansevito sì un pochino a Torremaggiore un pochino a San Paolo cioè è un triangolo senti poi là ci sono già magneti tutto ma cosa c'è ancora un po' di pomodori meranzane cosa c'è ma noi siamo diciamo trasformiamo tutto nel senso noi facciamo la cosiddetta diversificazione di produzione cioè produciamo le nostre uve facciamo i nostri vini e poi dai vini facciamo degli acidi naturali che noi come agriturismo possiamo diciamo poi dopo produrre tutti diciamo un vero agriturismo eh sì diciamo produciamo e poi trasformiamo va bene senti e con l'olio poi dopo il completamento perché per fare dei prodotti di qualità ci vuole l'olio extra lascio paparenato parlo con Sara c'è una un qualche cosa di speciale una che c'è beh noi produciamo anche la salicornia che è una verdura selvatica che cresce spontaneamente vicino ai laghi questa viene sbollentata e quindi va a eliminare il sale e poi lavorata in olio aceto ed è finita nel gergo locale un asparago di mare esatto e questa si abbina benissimamente con dei piatti sia di pesce che di carne hai perfettamente hai perfettamente ragione perché io l'ho conosciuta con degli chef pugliesi proprio durante dei momenti in cucina grazie Sara di niente ciao buongiorno e ben arrivati per questa assaggia di Toscana appunto come vi stavo dicendo siamo ormai la seconda generazione siamo dai primi anni 70 che abbiamo ristorante c'erano qui mai ho Natascia Sant'Andrea qui con me la tenda rossa celebre ristorante toscano quest'oggi voi in scena con un piatto della tradizione con tanti ingredienti che hanno toccato più province della Toscana sì infatti abbiamo cercato appunto di fare in questo piatto un concentrato di Toscana abbiamo usato per la sfoglia una farina siamo a podere forte quindi nella zona del Senese riguardo al ripieno sono dei fagioli che vengono dalla Lucchesia sono i fagioli rossi e anche un presidio slow food per quanto riguarda il ragù abbiamo fatto un ragù di osso buco quindi altissima e super tradizione toscana e abbiamo usato come carne il manzo di razza calvana e quindi siamo nella zona tra Firenze e Prato e non è finita qua nel ristretto di vino abbiamo usato un vino della zona bolgherese insomma avete fatto un mix vero e proprio toccando come dicevo prima diverse province beh arrivare dalla Toscana cucinare velocemente poi ripartire fate un po' come gli artisti che fate le tournée vabbè il buon cibo e il buon vino veramente aiuta tantissimo a fare una vita sana e questo è quello che proponiamo ai nostri clienti ma lo facciamo anche noi che momento sta vivendo la ristorazione quella importante beh lì tocchiamo una nota un po' dura diciamo così ma credo non solo la ristorazione importante ma la ristorazione in generale che è tutta importante da chi prepara un buon panino a chi prepara un buon piatto di spaghetti chi una buona pizza e chi un piatto magari con degli ingredienti più raffinati purtroppo molto spesso ecco si rischia ecco di avere delle difficoltà quello è vero mancano un po' di clienti e anche un po' di turismo purtroppo ecco no questa è una nota importante perché dobbiamo andare a stimolare chi di dovere proprio per ricordare che il nostro è un paese che dovrebbe essere principe del turismo allora dobbiamo lavorarci ultima battuta questa invece è una bella vetrina è fantastica è bellissima oltretutto divertentissima mi trovo molto bene a Mirano ed è un luogo dove posso incontrare un sacco di amici produttori che è una delle mie grandi passioni veramente cuscina e cibo insomma e buon vino eh sì dopo i grandi vini e il gran cibo lo star bene a tavola dobbiamo però coccolarci con un buon distillato perché no una grappa Cristina Nonino le grappe presenti a Mirano oggi infatti presentiamo degli straordinari una selezione meravigliosa di monovitigni in particolare nel nostro caso è possibile cambiando la tipologia di grappa monovitigno trovare delle caratteristiche organolettiche profondamente diverse e quindi c'è la possibilità veramente di scegliere la grappa monovitigno che più si addice al dolce che vogliamo degustare allo stato d'animo al momento ne approfitto qualche istante perché io noto così quando sei con gli amici che non sempre c'è la cultura giusta per capire quando beviamo una buona grappa a che cosa dobbiamo fare attenzione sicuramente è molto importante imparare a leggere le etichette ma a parte appunto la capacità di leggere l'etichetta è molto importante degustare in un bicchiere io oggi non ho il bicchiere ideale siamo in fiera siamo in un festival ma l'ideale è un bicchiere aperto che permetta l'ossigenazione del distillato tipo il flut da spumante anche i grandi distillati hanno bisogno di essere in contatto con l'ossigeno per sprigionare le proprie caratteristiche si completa così anche questa seconda puntata che Agrisapori ha voluto dedicare al Merano Wine Festival edizione di quest'anno lasciamo Merano e diamo la linea ai colleghi di Roma per l'informazione del sistema camerale italiano vi aspetto per i prossimi viaggi scommettere sulla Green Economy servirà a superare la crisi e darà al paese un futuro di stabilità a dirlo sono i numeri del rapporto Union Camera e Simbola Green Italy 2013 secondo il quale dall'inizio della crisi oltre a un'impresa su 5 ha investito nell'economia verde creando 3 milioni di lavoro per un totale di oltre 100 miliardi di euro di valore aggiunto la Green Economy è una grande opportunità per il paese è una grande opportunità perché i dati che si evincono da chi ha saputo utilizzare questo processo di innovazione culturale non solo economica sta avendo buoni risultati un'impresa di quel mondo lì cresce di più degli altri occupa il doppio degli altri esporta il doppio degli altri quindi vuol dire che è una scelta intelligente quella di rispettare l'ambiente rispettare con le nuove componenti che servono per fare impresa ed avere gli strumenti nuovi per poter meglio competere nel mondo quindi le imprese italiane che in questa direzione hanno saputo trasformarsi in questi anni sono circa 300 mila hanno scelto una strada per lo meno intelligente forse nemmeno senza saperlo ma hanno scelto la strada della Green Economy e proprio per questo oggi sono protagonisti sul mercato globale le donne reagiscono alla crisi creando nuove imprese nel terziario su circa 6 mila realtà nate in 12 mesi 4 mila sono rosa concentrate per oltre la metà nel centro Italia a dirlo sono i dati dell'osservatorio dell'imprenditoria femminile di Union Camera e Info Camera che il fotografo mondo scese in campo per darsi da solo quel lavoro che non trova facendo bene al sistema paese turismo ristorazione enogastronomia made in it l'artigianale servizi finanziari i settori più gettonati dalle imprenditrici che prediligono come forma giuridica la società di capitale è cresciuta del 4,5% a scapito della più semplice impresa individuale Roma è la città con il più elevato numero di imprese femminili seguita da Napoli e Milano Gal Monferrato Astigiano presenta Ritorno alla Fiera 12 fiere storiche simbolo del territorio monferrino mercoledì 11 dicembre la città di Moncalvo vi invita alla 376esima fiera regionale di sua maestà il Bue Grasso dalle ore 8 distribuzione scodella di brodo trippa e ceci esposizione dei capi bovini fiera agricola mercatino enogastronomico canti e scene popolari premiazioni e sfilata dei capi dalle ore 11 presso Proloco distribuzione continua del sontuoso bollito misto nel pomeriggio visite guidate e mostre d'arte rassegna gastronomica Moncalvo in tavola presso i ristoranti locali 376esima fiera del Bue Grasso mercoledì 11 dicembre a Moncalvo grazie a tutti a tutti boo a